Inizia una settimana intensa sulla vertenza Exilva, nella sede nazionale di Confindustria, a Roma, vertice tra l'azienda, Ciaieri d'Italia e i sindacati. Sul tavolo il piano industriale, ma anche quello occupazionale. Si apre dunque una serie di confronti dopo l'incontro del 19 gennaio con il ministro Adolfo Urso. Sono tanti i temi da discutere, tutti spinosi. Sicuramente è l'ennesimo incontro, ma è il primo dopo il punto che abbiamo fatto al Ministero. Quindi noi abbiamo chiesto, giustamente, assieme a Fiume Wilm, questo incontro perché non si può pensare al futuro di Taranto e di Ciaieri d'Italia senza ripartire dalle relazioni con l'azienda. L'azienda, gli incontri ministeriali vanno bene, ma sono molto generici e politici. Noi abbiamo bisogno oggi semplicemente di fare il nostro mestiere, di occuparci di produzione, di investimenti, di riapertura delle attività degli impianti e di riduzione della cassa integrazione perché questa è un'esigenza molto sentita. Chiederemo anche sugli appalti, ovviamente, questa bolla di sospensione che venga risolta e chiederemo un programma per i prossimi mesi che faccia capire che i 680 milioni che mette lo Stato e il Governo non finiscono in nulla, ma permettono di rilanciare Taranto. Noi continuiamo a pensare che un riequilibrio della governance e un nuovo ruolo dello Stato di rilancio sia necessario e indispensabile. I decreti che sono in fase di approvazione lo prevedono, noi nel prossimo incontro che il ministro ci ha garantito si terrà nelle prossime settimane torneremo a fare il punto anche su questo.